E' tutto pronto per l'Airshore del Sud Italia, lo spettacolo delle frecce tricolori che il 12 maggio animerà il cielo di Trani. Un appuntamento che terrà tutti col fiato sospeso tra scenografie, evoluzioni e acrobazie mozzafiato della nuova formazione della pattuglia acrobatica nazionale. I piloti del 313esimo gruppo addestramento acrobatico sorvoleranno lo spazio di volo del lungomare Cristoforo Colombo con le spettacolari scie dei colori della bandiera italiana che tingeranno di verde, bianco e rosso il cielo azzurro della città di Trani. Sarà un grande evento, una grande manifestazione di respiro nazionale, sicuramente ci aspetteremo tanti visitatori, ma d'altronde credo che la città lo meriti. L'appello che faccio alla città è di saper vivere la manifestazione nel migliore dei modi, e cioè godendosi a piedi, in bicicletta, evitando l'uso delle autovetture assolutamente in quei due giorni, perché di fatto anche le prove del sabato saranno belle, quindi da vedere. Dobbiamo essere capaci di vivere l'evento, saperlo vivere, farlo vivere a tutti. È stato predisposto un piano di viabilità che prevede una zona pedonale ristretta nella parte del porto, mentre è una zona traffico limitato che comprende quasi tutto il centro del cittadino. Quindi il cittadino di Trani riuscirà a muoversi liberamente per la maggior parte del tempo all'interno della città, tranne nelle zone interdette assolutamente al traffico. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è svolta a Palazzo delle Arti, Beltrani. L'evento cade all'indomani del centenario dell'aeronautica, da quando nel 1923 divenne Forza Armata Autonoma. L'aeronautica ha segnato l'epopea del volo in Italia e nel mondo ed è legata indissolubilmente alla città di Trani attraverso le gesta di suoi illustri avviatori.